La scuola di esposito è il nostro ospite d'onore di questa Italia America Tonight, canterai l'inno, quindi per te è un onore essere qui presente? Sicuramente è un onore essere presente, rappresentare la nostra bella cultura, quella italiana. Ciasera canterò l'inno americano, ma tra l'Italia e gli Stati Uniti c'è un'affinità d'amore e di rispetto che parte da radici lontanissime che vanno dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi gli Stati Uniti è un po' sentirsi a casa per me. Io sono anche un cittadino americano, nonché un cittadino italiano, quindi forse sono la persona giusta per celebrare questa notte. Certo, sicuramente, perché tu hai tanti anni ormai che sei qua, mi sembra dal 98. Infatti, sono quasi 20 anni quest'anno e è una gioia rappresentare l'Italia in tutti gli aspetti artistici con l'opera e il bel canto italiano. Benissimo, quindi sei anche appassionato, tifoso dei Clippers? Tantissimo, tantissimo, seguo, seguo, seguo e poi, come ben sappiamo, il Gallo che ci rappresenta è un onore per l'Italia, è un onore per lo sport, avere un atleta che ha avuto tantissimi successi e che continua a brillare nel filmamento dello sport internazionale. Perfetto, quindi stasera sarà una notte di sport, di musica e di Italia. Forza Italia!